Io sinceramente stasera sono molto più contento di mille altre rosse e di tre punti presse. E questo è un risultato che fa contento la città, fa contento i tifosi e quindi questo rincominciare a sentirsi amati e benvenuti dai propri tifosi è molto più importante avere altri punti presi. Allà dovete portare il tiro, Rappé! Da un strepitoso! Di quelli di quattro tiro, la palata, Enzichia e Rappé! Il pallone per Iguain, Iguain ne porta il tiro, Rappé! Iguain ne ha fatto il tiro, Rappé! Di segna che porta il tiro, Rappé! Di esiste! Iguain! 2-1! È il Pipita! È sempre il Pipita! Loro di Napoli! Iniziano! Loro di rigore! Iniziano! Iguain! Loro di Napoli! Gordo! Poi! Sì! Cosa è una scena il titolo! È il Pipita! È il Pipita! È il Pipita! È il Pipita! Ho il Pipita! Per l'apertura di Guaida, Albonoca, il calcolone per Insigne, per un reto, 3-3! Così è bellissimo! La depara di Amsic, per il rigore, Amsic e il tiro, 3-3! Amsic ha fatto grande giocata! L'intervento in rete, il Raul Lampione, il Napoli avanti, Amsic! Tappa la prossima giocativa dello slavacco, Iguain! E sono 17 in campionato, Iguain li salta tutti, Iguain! Un fenomeno quel numero 9 di 0-4, Iguain prova il giro! Un gol spettacolare di Manolo Cappellini! Gli basta voto, la sua firma però è sempre d'autore! Gli basta voto, la sua firma! Grazie a tutti. Grazie a tutti.